Musica Benvenuti al consueto appuntamento con 7 giorni di cronaca. Fissata la data delle regionali si voterà il 22 aprile. Nelle tasche dei consiglieri regionali andrà la cifra esatta di 831.600 euro. E' la somma destinata al pagamento delle indennità per i due mesi di proroga. Stabilirlo ufficialmente sono gli atti della regione. Sentiamo Pasquale Di Bello. Come si suol dire carta canta e in alcuni casi come il nostro la carta stona pure. Parliamo delle elezioni regionali e di quanto costeranno ai molisani. A stabilirlo con precisione chirurgica sono gli atti stessi della regione. In particolare una determina fresca di coniola numero 9 del 26 gennaio 2018. Il documento che opera una ricognizione di tutte le indennità e i privilegi di cui beneficiano i consiglieri regionali stabilisce in 4.990.000 euro la spesa per tutto il 2018. Fatti due conti e considerando lo slittamento pressoché certo delle elezioni regionali a fine maggio in concomitanza con le elezioni amministrative la somma da mettere in palio per liquidare la paghetta agli inquilini di Palazzo da Immo è di 1.247.500 euro. Si tratta della pagliacciata della staffa oltre che di uno schiaffo ai molisani messa in scena da un ceto politico che è stato incapace in cinque anni di varare una legge elettorale regionale se non in articolo mortis. È infatti noto alle cronache come soltanto in coda alla legislatura Frattura e soci abbiano partorito la nuova legge. Ovviamente la ristrettezza dei tempi che volendo poteva essere ampiamente superata ha consentito una odiosa prorogazio che non solo svuota ulteriormente le già magre casse regionali ma allo stesso tempo impone ai molisani di offrire vitto e alloggio più lavatura e stiratura come direbbe l'indimenticabile Totò a soggetti le cui braccia sono reclamate a gran voce dall'agricoltura. La determina regionale genera raccapriccio e indignazione laddove elenca voce per voce tutti i lauti benefici 6.000 euro lordi per indennità di carica di ciascun consigliere regionale a cui si aggiungono 3.000 euro per il presidente della giunta e del consiglio 1.500 per i vicepresidenti del consiglio e per gli assessori 750 per i segretari dell'ufficio di presidenza i presidenti di commissione e i capigruppo 4.500 per rimborso spese per l'esercizio del mandato per tutti i consiglieri regionali. Carta canta appunto e carta stona leggere in questo raccapricciante rosario di numeri la parola lavoro dipendente utilizzata alla voce ritenuta da conto non solo fa orrore ma anche qualcosa di più. Il presidente del tribunale di Isernia Enzo Di Giacomo ha annunciato il ritiro della propria candidatura al vertice della regione. Non ci sono le condizioni, ha detto. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Considerato che da più parti continuo ad essere citato come ipotetico candidato alla presidenza della regione non ritengo che vi siano state né vi siano le condizioni per le quali io abbia potuto o possa prendere in considerazione una eventuale candidatura. Tre righe inviate alla stampa dal presidente del tribunale di Isernia Enzo Di Giacomo per annunciare il suo ritiro almeno per il momento dalla ipotizzata candidatura alla presidenza della regione. Come si ricorderà il nome del giudice Di Giacomo era stato proposto alcuni mesi fa con determinazione dai movimenti civici e da singoli esponenti del centro-destra ovvero Angela Fusco Perrella Rosario De Matteis Salvatore Micone Filoteo Di Sandro Giovan Carmine Mancini e Maurizio Di Berio i partiti di centro-destra invece e in particolare Forza Italia e Lega pur riconoscendo la validità della proposta avevano deciso di rimettere la scelta finale nelle mani del tavolo nazionale evidentemente il tira in molla non è stato gradito dal giudice Enzo Di Giacomo e da qui la sua decisione di annunciare il disimpegno dalla competizione regionale secondo indiscrezioni nelle ultime ore Di Giacomo avrebbe incontrato alcuni esponenti del centro-destra e dei movimenti civici ai quali avrebbe anticipato il suo passo indietro che peraltro non è stato un fulmine a ciel sereno poiché alcune settimane fa lo stesso Di Giacomo aveva chiesto la massima condivisione per il bene del Molise sulla sua candidatura in mancanza aveva già preannunciato la sua indisponibilità la litirata di Enzo Di Giacomo dal punto di vista politico ora potrebbe condizionare anche la ritrovata unità del centro-destra e l'esito elettorale del 4 marzo non a caso i mediatori si sono messi subito all'opera e non si esclude che nelle prossime ore potrebbe essere sottoscritto da tutti i candidati al Parlamento del centro-destra un documento per invitare il Presidente del Tribunale a riconsiderare la sua posizione con l'impegno di definire presto e comunque prima del 4 marzo la sua candidatura al tavolo nazionale della coalizione al momento non è dato sapere se questa novità riuscirà a far cambiare idea al magistrato che occupa già un ruolo importante alla Presidenza del Tribunale di Sernia ma non è da escludere che qualora vi fosse un appello collettivo e condiviso Enzo Di Giacomo potrebbe ritornare sui suoi passi Chiudete l'ospedale di Sernia l'appello provocatorio è di Lucio Pastore rappresentante del Forum della Sanità Pubblica dopo l'ennesima giornata infernale vissuta al pronto soccorso del Veneziale sentiamo Sergio Di Vincenzo se l'obiettivo è quello di chiudere l'ospedale di Sernia lo si dica chiaramente ma di certo a queste condizioni non è più possibile andare avanti lo sfogo è di Lucio Pastore rappresentante del Forum in Difesa della Sanità Pubblica di Qualità dopo l'ennesima giornata di caos vissuta al pronto soccorso del Veneziale l'afflusso continuo di gente la mancanza di posti letto nelle varie strutture e la carenza di personale hanno fatto piombare il reparto nel caos ci vorrebbe una scelta politica chiara che cosa dobbiamo fare se si vuole chiudere che si chiudesse questa struttura se si deve privatizzare perché tutto questo succede per il processo di privatizzazione cioè l'accessione di gran parte dei fondi dei mezzi dei posti letto alle strutture private che li utilizzano per un'utenza che viene da fuori quindi se i nostri utenti non possono più avere risposte lo si dicesse chiaramente e se si vuole privatizzare si privatizzassero anche questi servizi in maniera tale che si decide che il privato dovrà rispondere anche di tutte le urgenze che ci sono sul territorio le denunce della situazione critica che si sta vivendo al pronto soccorso di Sernia sono continue ma di risposte convincenti finora non ce ne sono state con il passare dei mesi e degli anni le cose sono semmai peggiorate ieri in reparto si è vissuta una delle giornate più infernali in assoluto la situazione è quella drammatica che abbiamo vissuto nella giornata di ieri dove c'era un continuo afflusso di pazienti arrivavano ambulanze per un incidente altri pazienti portati dalle strutture per cronici non sapevamo dove posizionare questa gente quindi ci siamo trovati che arrivavano ambulanze con un pronto soccorso completamente intasato c'erano persone che stazionavano nel pronto soccorso da 5-6 giorni la cosa assurda se qualcuno avrà visto teniamo i vassoi per il cibo cosa che noi non dovremmo avere perché non siamo un reparto di detecenza e c'erano più di 10-15 vassoi il che significa che siamo stati trasformati in un reparto di detecenza senza personale né medico né paramedico quindi con lo stesso personale a cui rispondiamo alle urgenze dobbiamo rispondere anche a quelli che sono i degenti che rimangono nel nostro servizio Torna sotto i riflettori il drammatico problema degli sfratti per morosità incolpevole subiti dagli inquilini dell'Istituto Autonomo Case Popolari il coordinatore dell'Unione Sindacale di Base Sergio Calci ha attaccato su tutti i fronti il governo regionale auspicando un rinnovamento dell'intera classe politica sentiamo ancora Giovanni Minicozzi Torna in cronaca il drammatico tema degli sfratti per morosità incolpevole a rilanciare il tema è stato il coordinatore regionale dell'Unione Sindacale di Base Sergio Calce che ha strigliato la classe politica nostrana sull'operato degli ultimi cinque anni ancora ci sono dei fondi che non sono stati sbloccati oltre 300 mila euro e decine e decine di famiglie ogni giorno praticamente gli vengono mandati cosiddetti sfratti noi cercheremo di bloccarli fin quando ci riusciamo il tema importante si doveva votare non hanno votato finalmente c'è una data ma comunque continuano a percepire praticamente le mensilità che sono ben altre di un discorso alto faccio il gioco di parole che superano presumo anche i 25-30 mila euro cada uno mentre gli sfratti continuano la gente non lavora le fabbriche sono chiuse e questo è il dilemma di questa regione amministrata dal governatore Frattura che purtroppo bisogna prendere atto che in tutti i settori c'è stato un fallimento totale a partire dal lavoro dalla morsità incolpevole dalla sanità un fallimento totale che mi auguro che al breve tornando al voto si possa sbloccare definitivamente per ridare un rilancio alla nostra regione Il governo Frattura ha durato stabilmente 5 anni a fine legislatura a fine mandato possiamo dare un voto a questo governo regionale? Ma un voto guardi io penso che merita sotto la sufficienza per non dire ancora di meno perché purtroppo non è che uno vuole fare una polemica sterile o demagogica sono i dati i risultati che parlano io non vedo un provvedimento fatto positivo per la nostra regione a partire dal lavoro ripeto la sanità mi trovi un tema che è stato affrontato con intelligenza con caperbietà non c'è un piano di sviluppo regionale a mio malgrado devo prendere atto che sotto la sufficienza ancora di più sotto la sufficienza ma ripeto non è demagogia non è antipatia non è niente né nulla sono dati di fatti che vanno a registrarsi alla scadenza dei cinque anni purtroppo a mio malgrado devo registrare questo per quello che concerne lo sviluppo e la regione che non c'è stata in questa realtà a suo parere c'è una classe politica nuova che possa sostituire questa classe politica attuale ma guardi io me lo auguro adesso ci sono le politiche poi subito ci sono le regionali io mi auguro che esca una classe politica per dare il rilancio definitivo a questa regione me lo auguro di cuore al momento non vedo cose pronte però ripeto l'ottimismo ci deve essere io mi auguro che ci sia una classe politica che guardi allo sviluppo della regione non agli interessi personali perché purtroppo ce ne sono stati e ce ne saranno io mi auguro di no il Molise ha bisogno di uno slancio forte perché è una piccola realtà che può essere governata e mi auguro che si faccia presto dopo il 22 aprile a trovare una soluzione importante per i cittadini lavoratori e pensionati a dire il vero però saranno gli elettori a decidere se voltare pagina o meno e questo lo sapremo il prossimo 22 aprile il tribunale di Isernia ha dichiarato il fallimento della OTI l'azienda che aveva ereditato le linee produttive dell'ex ITR2 sentiamo il servizio di Enzo Di Gaetano il tribunale di Isernia ha dichiarato il fallimento della OTI officine tessili italiane che stava gestendo il concordato ITR e che era entrata in difficoltà in seguito al fallimento dell'IKF sua azienda madre è stata l'avvocato Rita Formichelli che ha presentato la cosiddetta istanza di auto fallimento in tribunale decisione inevitabile ha confermato la stessa legale di fronte ai debiti per circa 7 milioni nei confronti dell'ITR e dei crediti maturati dai 40 e più dipendenti della OTI soldi che l'azienda non aveva e per questo la richiesta di fallimento era inevitabile anche per scongiurare possibili conseguenze di carattere giudiziario per il commissario tempi difficili anche per i commissari della prima ITR e anche per quelli della seconda quella gestione bianchi che appunto era inconcordato su quanto accaduto da registrare il commento di Francesco Di Trocchio della CISL che dice il fallimento nei fatti conclamato da diversi mesi della OTI pone fine in maniera definitiva a qualsiasi tentativo di ripresa della stessa ITR se mai ci fossero state concrete possibilità resta a questo punto da verificare i riverberi che tale fallimento produrrà sul concordato preventivo dell'ITR la quale vanta ancora un debito del 30% nei confronti dei lavoratori licenziati rispetto ai crediti che le maestranze avevano maturato quando l'ITR scelse la strada del concordato preventivo il fallimento della OTI continua il sindacalista quantomeno consentirà ai lavoratori licenziati a dicembre di avere uno scenario definitivo e garantito per recuperare il TFR e le mensilità arretrate attraverso le insinuazioni allo stato passivo non appena si sarà insediata la curatela fallimentare in senso assoluto chiude di trocchio c'è tanta amarezza nel constatare che qualsiasi tentativo di rilancio dell'ITR abbia prodotto solo macerie sulle macerie e la sconfitta di tutti dove i lavoratori le loro famiglie e l'economia del territorio pagano il prezzo più caro Parliamo adesso di EGAM l'ente per la gestione delle risorse idriche istituito dalla regione i sindaci dei comuni i sindaci dissidenti alcuni comuni hanno dato mandato agli avvocati Ruta, Zezza e Romano di rivolgersi nuovamente al TAR dunque un nuovo ricorso per difendere quella che definiscono l'autonomia delle amministrazioni locali contro il grave atto di ingerenza della regione il servizio di Anna Maria Di Matteo Torna di attualità l'istituzione dell'EGAM decisa dal governo regionale contro il parere di un gruppo di sindaci molisani che si erano rivolti al TAR ottenendo peraltro ragione per l'annullamento della delibera della giunta e dei successivi atti ora si apre un nuovo fronte un nuovo contenzioso tra i comuni e la regione le amministrazioni comunali che non hanno aderito all'EGAM rischiano infatti il commissariamento una conseguenza che i sindaci hanno definito un atto di forza da parte della regione che è innescato per la seconda volta un grave conflitto istituzionale a danno degli enti locali e delle loro comunità secondo i comuni decreti di commissariamento del presidente della regione violano l'autonomia costituzionale dei comuni stessi che avevano scelto attraverso il pronunciamento dei rispettivi consigli comunali di non aderire all'ente per la gestione delle risorse idriche dunque il commissariamento rappresenta un'ingerenza della regione nelle attività delle amministrazioni locali così i comuni di Campo di Pietra Civitanova del Sagno e Pietra Abbondante Belmonte del Sagno Roccamandolfi Acquaviva di Isernia Campochiaro e Agnone hanno dato mandato agli avvocati Ruta Zezza e Romano che li avevano già assistiti dinanzi al Tarne nella prima fase della controversa vicenda per tutelare le loro ragioni e quelle delle comunità che essi rappresentano il commissariamento ha commentato il sindaco di Campo di Pietra Giuseppe Notar Tomaso è il primo atto di un processo inesorabile di svuotamento dell'autonomia dei comuni nella gestione del servizio idrico poi ha aggiunto toccherà le reti infrastrutturali che si imporrà di cedere gratuitamente al Legam e infine l'affidamento del servizio ad un gestore unico che temiamo non potrà che essere un operatore economico privato visto che il procedimento di costituzione della società Enaus previsto dalla legge è ancora fermo al palo e nessuno ne ha più parlato ha concluso il sindaco di Campo di Pietra che porterà avanti la sua battaglia contro l'Egam e contro il rischio di privatizzazione delle risorse idriche molisane E inizio settimana momenti di tensione qualche spintone e tante persone stipate nei locali di Via Cavour a Campobasso bollette dell'acqua contestate risalenti in qualche caso a 20 anni fa vediamo cosa è accaduto nel servizio di Giovanni Di Tota ha scritto 5.741 quando il precedente era 5.776 il che torna evidente che non può essere vuol dire che invece di 5.741 deve essere 5.841 perché attualmente è 5.890 allora dico io voi quando fate le fatturazioni non vi rendete conto che c'è qualcosa che non quadra? decine di persone in coda un solo sportello ancora una volta a Campobasso ressa al pagamento delle bollette dell'acqua inviate ai cittadini ma totale carenza nel servizio per l'assenza di personale soprattutto difficoltà enormi nel ricevere spiegazioni tutto questo perché a sentire i contribuenti in molti casi le bollette erano state già pagate o erano sbagliate dunque in Via Cavour anche stamani in momenti di tensione è rissa quasi sfiorata a causa del sovraffollamento è una cosa vergognosa proprio noi siamo venuti qua dalle 9 stamattina c'erano già 60-70 persone con la porta chiusa sotto l'acqua abbiamo dovuto chiedere cortesemente di farci entrare per prendere almeno il biglietto dopo aver preso il biglietto niente non ci hanno aperto avrebbero aperto alle 10.30 allora sono entrata dentro e ho detto per cortesia almeno vedendo tutte queste persone datevi da fare no? le priorità sono altre non quello di stare dentro a fare altri lavori ma smaltite perché comunque alle 12.30 ci avrebbero mandato via ma noi abbiamo altre cose da fare dopo abbiamo ventilato l'ipotesi di chiamare i carabinieri perché si erano fatte più di 100 persone dopo due ore siamo a 11 ancora da quando hanno aperto lo sportello hanno dato i numeri fino a 85 e 90 non so se si ritereranno per le 10 ecco qua fino a 96 ho segnato tutte le bollette io sono solo in casa mi hanno messo 157 euro di acqua e poi da stamattina alle 9.30 il numero 32 stanno ancora a 11 per gli errori che fanno penso che ci vorrebbero più impiegati ho sempre pagato 20 euro 25 adesso 157 euro lo so che cos'è è un qualcosa di 22 anni fa e non so darmi una spiegazione che cosa sia però e quindi sto cercando un qualcuno che mi possa dire questi 260 euro che io dovrei pagare c'è un codice ma non lo sanno vedere manco loro io non è che poi sia pratica di codici ore di ansia a Termoli per il fermo effettuato dalla Croazia del Peschereccio nuovo 30 carrini che avrebbe sconfinato in acque extraterritoriali durante una battuta di pesca Manuela Iorio sono ore di ansia al porto di Termoli dove non è rientrato dalla battuta di pesca il nuovo 30 carrini il Peschereccio infatti è bloccato in Croazia nel porto di Vis dove è stato scortato dalla capitaneria locale l'imbarcazione sarebbe sconfinata in acque extraterritoriali per la precisione croate da qui il fermo da parte delle autorità del luogo che da ieri pomeriggio costringono l'equipaggio e il mezzo a restare ancorato a Vis l'armatore termolese Basso Cannarsa contattato da Telemolise ha tranquillizzato sullo stato di salute del comandante e dei tre marinari proprio questa mattina le autorità croate hanno effettuato un controllo sul pescato che il risultato in regola per taglia e tipologia e in giornata il peschereccio potrebbe essere rilasciato possibile una sanzione amministrativa per l'armatore qualora lo sconfinamento venisse confermato al momento del fermo il nuovo 30 carrini si trovava con molta probabilità effettivamente in acque croate dopo aver pescato in acque internazionali il possibile sconfinamento potrebbe essere stato causato da un'errata valutazione delle correnti o da altri fattori indipendenti dalla volontà del comandante dal porto di Termoli ora sono in attesa della notizia più importante e cioè quella del via libera per il ritorno a casa due denunce a Termoli per ragazzi di 17 e 18 anni responsabili della rapina a mano armata compiuta in un supermercato del centro il servizio di Fabrizio Occhionero un contesto di disagio sociale dietro alla rapina compiuta al supermercato Sigma di Termoli dove un ragazzo di 17 anni si è finto cliente minacciando la commessa con un coltello e scappando con il registratore di cassa la polizia è riuscita a rintracciarlo e a scoprire anche un complice appena maggiorenne per entrambi è scattata la denuncia per rapina e danneggiamento le indagini si sono concentrate sui filmati delle telecamere sui confronti del commissariato di Termoli che hanno permesso di ricostruire la dinamica di un colpo organizzato poco prima dai riscontri si è arrivati al minore che ha confessato e ha tirato in ballo anche l'amico nel ruolo di palo gli agenti della squadra volante del reparto investigativo hanno recuperato i soldi alcune centinaia di euro il coltello il registratore e nel corso degli accertamenti hanno trovato anche della droga i dettagli sono stati illustrati dal dirigente Vincenzo Sullo confermando la sinergia nell'azione investigativa in città senza escludere anche possibili sviluppi nella rapina a mano armata messa a segno qualche giorno fa al distributore sul lungomare nord la commissione di una rapina con quel modus operandi chiaramente suscita allarme sociale e spinge le forze dell'ordine a dare una risposta repentina ad attività insomma criminose di questo tipo agli episodi di piccola criminalità che coinvolgono anche giovanissimi si associa il monitoraggio costante di tutta la zona all'interno di un piano di sicurezza complessivo così il dirigente del commissariato di Termoli ha commentato anche l'ultimo rapporto della direzione antimafia in merito al rischio di permeabilità e di infiltrazioni della criminalità organizzata lungo la fascia adriatica al momento non ci sono elementi da far ritenere questo territorio infiltrato dalla criminalità organizzata però le nostre antenne sono vigili e le attività sia del commissariato che sia della questura di Campobasso ma io mi sento di dire di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio con il quale abbiamo una sinergia quotidiana e continua ci permettono insomma di ritenere che al momento noi lo teniamo sotto controllo questo territorio e ora parliamo di un importante riconoscimento per la transumanza molisana riconoscimento che è stato dato ufficialmente a Roma al ministero delle politiche agricole sentiamo di cosa si tratta lo scorso autunno il ministro Maurizio Martina aveva firmato il decreto che inseriva la transumanza molisana nel registro nazionale dei paesaggi rurali delle pratiche agricole e delle conoscenze territoriali ieri per l'antica tradizione agropastorale portata avanti dalla famiglia Colantuono di Acquevive di Frosolone da secoli è arrivato il riconoscimento ufficiale da parte del ministero delle politiche agricole a Roma è stata premiata nell'evento organizzato dall'ISMEA l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare il 10 ottobre del 2014 l'ASVIR Moligal l'agenzia di sviluppo rurale aveva richiesto di iscrivere nel registro la transumanza molisana e l'osservatorio nazionale del paesaggio rurale delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali ha accolto in esso ad oggi sono iscritti 10 paesaggi rurali storici e due pratiche agricole tradizionali tra queste ultime la transumanza molisana dei Colantuono tanta soddisfazione ed emozione per Carmelina Colantuono la nostra capabilità che ci ha portato a portare avanti una tradizione antica come quella della transumanza ci ha premiato e io è un riconoscimento che dedico naturalmente alla mia famiglia a chi non c'è più e ha fatto tantissimi sacrifici per questa transumanza e soprattutto la dedico alle nuove generazioni perché sono loro che ci danno sempre più forza e sono loro che ogni anno partecipano sempre di più e c'è una riscoperta della transumanza soprattutto grazie a loro nella motivazione dell'osservatorio si legge che nei secoli la transumanza è stata per Frosolone una delle attività prevalenti tante erano le famiglie e i possidenti che in autunno riunivano i loro capi in mandri o greggi più grandi e andavano a svernare in Puglia nel limitato numero di famiglie che promuovono e salvaguardano in varie forme il patrimonio culturale immateriale legato a questa pratica millenaria va segnalata quella dei Colantuono che da secoli si impegna appunto a rendere la transumanza sempre attuale un riconoscimento che ha sottolineato Nicola Di Niro direttore di Asvir Moligal è ora un punto di partenza di una programmazione decennale che il partenariato internazionale di cui l'agenzia molisana è capofila sta portando avanti anche per valorizzare la rete tratturale nel mezzogiorno da una parte si continua sulla candidatura più ampia della transumanza come patrimonio immateriale all'UNESCO e dall'altra parte i tratturi diventano una cerniera di collegamento tra le grandi vie verso l'oriente e delle grandi vie che andavano nel nord dell'Europa è tutto anche per questa edizione di 7 giorni di cronaca grazie per averci seguito e arrivederci grazie per averci seguito